Estra con Ana Bianca e Startup Italia lancia la terza edizione di E-Cube, il concorso riservato ad aziende innovative Digital & Energy con un investimento di 60.000 euro per i migliori tre progetti presentati. Intesa tra ConfCommercio Prato Pistoia ed Estra Energie per ridurre le bollette di luce e gas, Estra offrirà vantaggiose offerte a prezzo fisso indicizzato alle imprese associate a ConfCommercio Prato e Pistoia. Estraclima e Estracom riqualificano la pubblica illuminazione di Calenzano con la sostituzione delle attuali lampade con i led su quasi 4.000 lampioni del comune fiorentino. Si rinnova il rapporto tra Estra e il Cus Siena Scherma con la società energetica che continua ad essere lo sponsor principale del sodalizio schermistico che ha presentato di recente squadra e tecnici.